L'ananas è un frutto gustoso e rinfrescante e ricco di proprietà benefiche. Sapevi che è possibile usare l'ananas per liberare le arterie ed evitare le malattie cardiache? Alla scoperta delle proprietà benefiche dell'ananas, l'ananas dona numerosi benefici al nostro organismo. Ecco quali aiuta a perdere peso aumenta le difese immunitarie. Combatte la stitichezza, migliora la digestione. Agisce come antiossidante, previene l'invecchiamento precoce del corpo. Purifica il sangue e l'organismo allevia l'infiammazione. Previene e combatte la ritenzione dei liquidi. Aiuta a disintossicare il corpo, protegge la gola. Protegge le arterie e previene le malattie cardiache. Ecco come usare l'ananas per liberare le arterie ed evitare le malattie cardiache. Puoi godere dei benefici di questo frutto. Quindi effettua le seguenti operazioni. Sbuccia l'ananas. Il primo passo è lavarlo a fondo. Metti le bucce in una pentola con un litro di acqua. Tagliala a fette e conservale in frigorifero. Lasciare riposare la bevanda per 15 minuti e bevi la calda o fredda. Lasciala bollire per 5 minuti, quindi spegni il fuoco. Asciikan le vanda nasc pa sulla scena o fredda. O poi cliccan mentre tagliala a fredda. Per 5 minuti e canasta a scena. Per 5 minuti e rinnovare per 5 minuti. Non si ne관OFF rinnovare le respiration.